Con l'avvio del nuovo anno scolastico è partita anche il servizio disposto dal Ministero degli Interni Scuole Sicure, un progetto specifico e nel corso dei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti messi in campo dai Carabinieri dell'Aquila, negli istituti scolastici dell'Aquila e provincia, i militari della stazione Carabinieri dell'Aquila, nelle vicinanze dell'istituto scolastico alberghiero, hanno controllato un giovane studente e l'hanno trovato in possesso di un grammo di hashish che deteneva per uso personale. Lo stupefacente è stato sequestrato e il minore è stato affidato ai genitori. Nei suoi confronti sarà eseguita la segnalazione alla Prefettura. Per gli assuntori di sostanze stupefacenti, l'attività di controllo nei prezzi delle scuole proseguirà per tutto l'anno scolastico e rientra appunto in una più ampia attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di devianza giovanile.